Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa live, come state? Spero tutto bene, benissimo, benissimo, oggi partiamo che abbiamo un pochino di notizie da vedere insieme, tra l'altro spero che siate sopravvissuti un po' a questo weekend che sicuramente non è stato dei migliori, anche se poi ieri alla fine non è finita come poteva, cioè non è finita nel peggioro dei modi, se poi ci pensate. Ad ogni modo, vediamo alle notizie quelle veramente importanti, cioè quelle che mandano avanti poi il mondo delle blockchain e delle crypto a prescindere poi dal mercato, tra l'altro pump in diretta, tra l'altro sai che non ho sotto mano CoinMarketCap, dopo magari lo prendiamo e vediamo, io non sarei così ottimista da gridare subito al pump, cioè che tutto sia finito, ecco però la cosa che è importante secondo me sono le notizie. Quindi, innanzitutto è finito il tempo per lo snapshot di questo fatidico airdrop del progetto che adesso si chiama Solidly, quindi non più SolidSwap, mi piace, mi piace il nome Solidly, e sono stati alla fine dati ai primi 25 protocolli, se non ricordo male, tra l'altro c'è la lista completa, quindi nel caso che vi interessi ve l'avevo anche fatta vedere, è questa qui. Una cosa della quale sono contento è che sono stati aggiunti anche sia Tarot che LiquidDriver, che rischiavano di essere esclusi da questo airdrop in quanto proprio a livello di TVL erano scesi con l'arrivo di soprattutto 0xDAO e VEDAO, queste due grandi DAO che avevano preso tantissima liquidità, tantissimo capitale al suo interno. Oltretutto, se vi ricordate, vi dicevo che non avevo ancora capito se la quantità di airdrop che veniva rilasciato fosse proporzionale o meno al TVL, e la risposta è sì, era proporzionale al TVL, perché se andate a vedere, a parte per multichain, che però è un bridge, quindi è tutto un po' a sé stante, a parte per multichain, la quantità di token che... di NFT in realtà, la quantità di NFT che sono stati dati è proporzionale al TVL. Ad ogni modo, ancora non è stato lanciato il progetto, infatti qui, questo qui è l'articolo ufficiale che ha scritto proprio stamattina, nove ore fa, nella quale spiega come avverrà l'inizio di... il lancio di questo progetto, ha pubblicato anche poi sul suo profilo Twitter uno... uno screenshot di come sarà l'interfaccia grafica. Vi dico la verità, finché la cosa non esce, che si può testare, non mi è ancora chiarissima quale sarà la realtà... la reale utilità pratica di questo protocollo, nel senso che ho capito qual è il senso che lui vuole dare a questo protocollo, però poi a livello di utilità reale mi sfugge ancora un po', però nel senso lo vedremo comunque nei prossimi giorni, quindi lo andremo anche a commentare insieme probabilmente e a vedere come andrà. Vi faccio anche vedere un altro protocollo perché, vi giuro, mi fa morire. Si chiama Solidex e tra l'altro il loro token si chiama SEX, credo ci sia anche scritto da qualche parte, sì, our native SEX token, cioè sono dei geni. In pratica che cos'è questo progetto e perché ve ne parlo subito dopo avervi parlato di Solidly? In sostanza perché il loro obiettivo, cioè Solidex ha l'obiettivo di diventare la Convex per Solidly, ok? In pratica consente, se andate a leggervi un po' l'articolo, comunque trovate il canale Twitter di Solidex dove potete andare a prendere tutti questi dati. In sostanza chi deposita su Solidex, anziché depositare su Solidly, riceve dei boost all'APY proprio come funziona Convex su Curve. Perché? Perché Solidex è una whale, o comunque ha l'obiettivo di diventare una whale di questo token, di questo token Solidly. Con l'obiettivo poi di poter, appunto, assumere un'importanza e una rilevanza tale che poi è quella che ha Convex. Quindi banalmente si può riassumere in Solidex vuole diventare la Convex per quanto riguarda Solidly. È un progetto che su Twitter ha tipo 2000, 2400, 2500 follower, quindi è nato veramente oggi o ieri. No, quattro giorni fa è questo articolo, però sicuramente non stiamo parlando del progetto più grande al mondo, quindi l'ambizione c'è, è alta. Staremo a vedere, ecco, è tutto una cosa, una cosa secondo me, troppo divertente da guardare. Ecco, non ho ancora capito se tutto ciò effettivamente avrà un senso. Però questo è un po' il fascino anche delle cripto, no? Che non si capisce bene tutto all'inizio. Ma noi, ragazzi, tanto rimaniamo sempre sul pezzo, quindi giorno per giorno andremo a vedere cosa sta succedendo. Ad ogni modo, ad ogni modo, Allora, non ho qui il tweet, però l'ho letto anche nei commenti. C'è stato un airdrop di, se non sbaglio, 0,1 o 0,2 Memo per chi è andato nei giorni scorsi a brigiare i propri Wrapped Memo portandoli su Phantom e andando a metterli sostanzialmente in staking su Popsicle Finance. Quindi, per chi mi pare avesse brigiato un quantitativo superiore ai 150 dollari di Memo credo che ci sia stato anche questo airdrop. Personalmente non avevo fatto il bridging, quindi non vi so dire se effettivamente poi la soglia era 150 dollari. Se non erro, sì, perché... Ah, ok, mi era scomposto tutto. Se non erro, sì, perché mi pareva di aver letto un qualche tweet a riguardo di questo airdrop. Poi leggevo anche... Arrivati, ok, quindi vi sono arrivati questi 0,2 Memo che più o meno sono, tra l'altro, anche lì, quant'è? Un 150 dollari più o meno? Soglia di 100 dollari, ecco, grazie mille. Quindi la soglia era di 100 dollari e l'airdrop equivale a circa 150 dollari, se non sbaglio, perché mi ricordo che il profitto era piuttosto importante, nel senso che le varie fee che si andavano a pagare per fare tutto il bridging si aggiravano intorno ai 30 dollari e quindi ricompensati con 150 non è male. Quindi auguri a chi l'ha fatto. Detto questo, un'altra notizia che aveva fatto un tweet 0xSifu, esatto, sì, credo di aver letto proprio quello anch'io, grazie mille. Comunque una notizia proprio freschissima di oggi, non l'ho ancora vista personalmente, quindi mi fido però, diciamo, che stiamo parlando del CEO di OcX, che è l'exchange, è che nativamente hanno integrato Anchor Protocol. Cioè, in sostanza, vedete, voi andate qui su OcX, subscribe, di tipo flexible, quindi esattamente Anchor senza fee. Vedete che è scritto anche nel tweet, senza alcun tipo di fee, e questo è comodo e al momento anche Uobi, se non sbaglio, ha un qualcosa del genere. Adesso non ricordo esattamente... Non si vede? Cosa è che non si vede, scusami? Ah, forse è un po' troppo piccolo, guarda, te lo apro. Ok. Ad ogni modo, comunque, anche Uobi ha una... un'offerta del genere dove quindi si può andare a mettere in stake praticamente UST e contemporaneamente, se non sbaglio, anche su... anche su Binance, ma... sapete che su Binance non ne sono sicuro? Vabbè. Ah, anche CoinList. Grazie mille, anche CoinList. Altra cosa importante, ragazzi, che vi volevo dire, che anche qui non trovo il tweet, ma c'è stata la notizia del listing da parte di Binance del token ANC, che è quello sostanzialmente relativo ad Anchor Protocol e che finalmente viene listato anche su Binance. E comunque il listing su Binance ha sempre la sua importanza ad oggi, quindi non siamo ancora arrivati al punto di dire che il listing sugli exchange non ha rilevanza, a mio avviso. Quindi, interessante. Altra cosa che volevo farvi vedere è che ad oggi è stato listato su svariati exchange, tra cui anche Binance, Uobi, KuCoin e forse anche Gate.io, il token di Akala, ok? Che era quella parachain di Polkadot che ha vinto per prima l'asta. Attualmente vale 2 dollari, che non è tantissimo, eh, se ci pensate, perché personalmente mi aspettavo un pochino di più. 2 dollari, considerate che le reward medie per DOT distribuito in Crowdlon erano circa sui 5, quindi per ogni DOT venivano dati circa 5 H e a questo prezzo vuol dire che per ogni DOT venivano dati circa una decina di dollari, perché 2 per 5 più o meno, siamo sui 10. Certo è che il progetto, tra virgolette, nasce oggi, nel senso che, ok, è il primo giorno di listing, ancora in realtà non si può fare praticamente nulla, si può solo inviare il token, quindi la piattaforma deve ancora nascere, deve ancora partire il DEX, deve ancora partire la stablecoin, Now, SD, insomma, deve partire veramente tutto, eh, quindi sono curioso di vedere la sua evoluzione, sono curioso di vedere la sua evoluzione, però sicuramente il lancio non è stato dei migliori. Market cap è relativamente bassa, perché 139 milioni di dollari non è eccessiva, non è neanche troppo bassa, nel senso che sicuramente non poteva essere, non poteva essere tipo un miliardo di market cap al lancio, sarebbe stato estremamente difficile, quindi il fatto è questo, noi lo prendiamo. Dunque, dunque, crypto.com non lo considera nessuno, beh, oddio, in che senso non lo considera nessuno, no? Ha la sua importanza crypto.com, non so se ti riferivi a qualcosa di particolare, forse perché prima stavo dicendo tutti i vari exchange, tranne lui, no, ma ha la sua importanza anche crypto.com. Ok, altra notizia, ragazzi, è questa qui, che vedete a schermo, che ha pubblicato Stani, e che in sostanza vogliono, cioè è nata la proposal per lanciare Aave versione 3 su Avalanche. Attenzione, Aave esiste già su Avalanche, quindi uno dice, ma cos'è che stanno lanciando? Vogliono lanciare la versione 3, quindi mi sono preso questo documento che spiega un pochino più nel dettaglio in cosa consiste, o meglio, quali sono le features che vengono aggiunte con la versione 3 di Aave, e che se vi ricordate, ve l'avevo scritto un po' di tempo fa, quindi ci può stare che non ve lo ricordiate, ve l'avevo scritto su Telegram, quindi, riassunte sono questi punti qua. cioè innanzitutto, con la versione 3, Aave diventa un protocollo completo cross-chain, nel senso che, vedete, c'è possibilità di far viaggiare gli asset che si trovano all'interno del protocollo tra le differenti reti, tra le differenti chain, quindi, ad esempio, un'integrazione molto migliore tra l'Aave che c'è su Avalanche, l'Aave che c'è su Polygon, l'Aave che c'è su Ethereum, quindi questo è molto molto importante. In più, High Efficiency, quindi vengono migliorati sostanzialmente gli LTV, in questo senso qua si parla di High Efficiency, ma quella che è secondo me interessante è la Isolation Mode, e che è già utilizzata da protocolli come Abracadabra, ad esempio, cioè si può andare a limitare l'esposizione e il rischio del protocollo dai nuovi asset che vengono listati, perché nella versione 2, nella versione 2, cos'è che succede? Succede che ogni asset presente tra quelli disponibili che si possono depositare incide sul rischio complessivo della piattaforma, perché non c'è appunto un isolated, cioè il mercato non è isolato, nel senso che tutte quelle crypto vanno insieme a comporre il rischio della piattaforma. Viceversa, con un rischio isolato, che è quello che, ripeto, già avviene su Abracadabra, si possono andare a formare dei lending and borrowing monodirezionali. Quindi, in sostanza, io, ad esempio, metto a collaterale Doge, Doge Elon, Shiba Doge Elon, per prendermi in prestito i miei USDC, ma Shiba Doge Elon, che viene listata su Aave, non va a compromettere il rischio di tutti gli altri, tutti gli altri token già listati su Aave, ok? Questo qui è un po' il rischio, dicendola proprio alla bruta, che è interessante, perché permette ad Aave di listare molti più token, perché con il fatto che ogni singolo token listato va a influire sul rischio dell'intera piattaforma, Aave deve stare molto più attenta a listare token scandalosi, ok? Mentre, se invece si può fare una cosa del genere, che vi dicevo prima, che metto a collaterale Shiba Doge Elon e mi prendo a presto, perché sono un pazzo, degli USDC, capite bene che l'unico pazzo sono io, nel senso, l'unico che rischia e che si assume il rischio sono io, tutti gli altri che non vogliono essere pazzi come me da assumersi il rischio di questo Shiba Doge Elon, non riscono anche a pronunciarlo bene, possono stare più tranquilli, ok? Il senso è questo qui, liquidato in 0,0001 secondi, ma secondo me non appena premi borro sei liquidato, cioè parte proprio la transazione, è una transazione di liquidazione automatica. Comunque, insomma ragazzi, è una cosa super interessante, perché il fatto che delle piattaforme che sono già cross chain, incominciano ad integrare anche la loro liquidità cross chain, cioè che la liquidità che io deposito su Polygon può essere utilizzata da Aave su Ethereum, oppure la liquidità di Ethereum può essere utilizzata su Avalanche, insomma, si apre uno scenario estremamente interessante dove i progetti che vengono deployati cross chain non hanno magari neanche più bisogno che la liquidità ci sia su ogni chain, perché se la possono gestire un po' loro, quindi secondo me questa è un po' anche il futuro, insomma, sono curioso di vedere l'evoluzione di questa proposal, perché vi ripeto, non per forza passerà, molto probabilmente sì, però rimane ancora una proposal. Altra informazione che vi volevo dare, ed è qui, relativamente a questo tweet che ha pubblicato Lido Finance, per chi non se lo ricorda, Lido Finance è sostanzialmente un protocollo di liquid staking, in particolare già attivo sia su Ethereum che su il mondo di Terra, e adesso c'è la proposal per Avalanche, quindi vogliono creare un liquid staking per Avalanche, una sorta di ST, AVAX, che andrà a fare un po' guerra se ci pensate alla stessa proposal di Wonderland, perché anche Wonderland, l'abbiamo già detto, che ha l'obiettivo e ha l'intenzione di creare una struttura, un'infrastruttura per liquid staking, quindi si andranno un po' a fare guerra, però ci sta, perché ragazzi alla fine in quasi ogni blockchain i protocolli di liquid staking magari sono anche più di uno, quindi staremo a vedere per noi utenti magari quale sarà il migliore, perché poi alla fine è l'utente che va a selezionare Lido Finance o il corrispondente di Wonderland un po' in base a quello che gli conviene, un po' all'APY, un po' alla facilità d'uso per quanto riguarda l'utente e poi un po' a gusto personale, perché uno può anche avere dei gusti personali. Detto questo ragazzi, prima di passare alle vostre domande volevo parlarvi cinque minuti, ok, vi faccio vedere questa cosa qui perché sono felice di potervi fare vedere Bitsgap, ok, ho deciso di fare questa collaborazione quindi chiaramente è una cosa che vi sto facendo vedere perché lo reputo interessante in periodi come questi e allora è giusto che vi spieghi innanzitutto un attimino come funziona, che cos'è e per chi può essere una cosa interessante, ok, non è sicuramente per tutti, questo ve lo dico in anticipo. Si tratta di un trading, un bot di trading di tipo grid trading, che cosa vuol dire? Vuol dire in sostanza che la piattaforma che si interfaccia con i vostri exchange, quindi potete collegarci Binance, Kraken, Uobi, insomma, la maggior parte degli exchange si può interfacciare con Bitsgap tramite API, di API ne avevamo anche già parlato e sono praticamente quelle interfacce che consentono di andare ad utilizzare il vostro exchange presso terze parti, quali Bitsgap. In questo modo, senza uscire da Bitsgap, voi potete utilizzare i fondi che avete appunto per esempio su Binance, ok? Detto questo, in sostanza i bot di trading in stile griglia che lavora a griglia cosa fa? Va a crearvi in modo automatico una griglia di come vedete a schermo, vedete che ci sono tante linee orizzontali, ognuna di queste linee orizzontali è sostanzialmente un livello di acquisto o vendita, tant'è che io per farvi vedere anche una cosa che, cioè per farvi vedere un esempio, avevo avviato ieri un bot soltanto per prova e tutti questi pallini verdi e pallini rossi che vedete a schermo, anzi magari lo zoom così li potete vedere un pochino meglio, sono operazioni, quelle verdi di acquisto, quelle rosse di vendita che il bot in automatico ha fatto, ok? Perché le ha fatte? Allora, questo è, per capirlo è necessario capire bene come funzionano i bot di trading. In sostanza loro vanno a fissare una zona massima e una zona minima, ve le faccio anche vedere perché vi faccio proprio avviare un bot di test così lo capiamo subito. Innanzitutto qui ci dice che tipo di bot vogliamo creare all'avvio. Io tipicamente utilizzo gli S-bot e tra l'altro vi voglio dire che io utilizzo Bitsgap non essendo un trader, cioè io di solito non faccio trading ma Bitsgap lo utilizzo come meccanismo di diversificazione dei bitcoin perché spesso è molto comodo, ok? soprattutto in periodi in cui il mercato è laterale perché adesso lo andiamo anche a vedere i bot di trading di tipo griglia lavorano molto meglio quando il mercato è di tipo laterale. Soprattutto addirittura se avete dei rebate sugli ordini che fate che cosa sono i rebate? In sostanza se l'exchange vi paga una piccola commissione per ogni ordine che voi andate ad eseguire ad esempio su FTX se detenete un certo numero di FTT andate a ricevere dei rebate sui vostri ordini a limite e considerate che questo bot fa solo ordini limite quindi può essere anche conveniente. Comunque S-Bot quindi uno premiamo qui in alto selezioniamo l'exchange al quale collegarci adesso vi lascio Binance la coppia ok? La coppia è importante da scegliere perché sarà la coppia sulla quale il bot poi va a lavorare sarebbe ottimale scegliere una di quelle coppie che stimiamo non abbia un'altissima volatilità è ovvio che in momenti in cui come questo la volatilità scusate è un po' alta stimare una coin che rimanga in certi range non è facilissimo e quindi prendiamo ADA così vi faccio l'esempio con ADA dunque o la cerco o la trovo io eccola qui ADA Bitcoin ok la prendo qui in automatico quindi senza che io faccia niente il bot mi va a costruire una zona superiore vedete che si chiama prezzo massimo forse un po' piccolino per voi zoom una zona che è prezzo massimo e una zona che è quella di prezzo minimo queste zone le crea il bot in automatico secondo gli algoritmi che ha lui ma volendo voi potete cambiarle ok semplicemente prendendo qui e trascinando la barrettina in alto o in basso io personalmente lascio di solito dove mette lui ok proprio per non andare a espormi visto che non sono un trader detto ciò una volta scelta la coppia una volta scelti prezzo massimo e prezzo minimo qualora voi decidiate di impostarli in maniera autonoma oppure li potete tranquillamente lasciare dove le imposta il bot dovete chiaramente decidere quanto andare ad investire allora questo è chiaramente la parte di demo del bot quindi qui ci sono 0.6 bitcoin ma il bello di Bitscap è che voi potete andare a far partire più bot contemporaneamente quindi potete anche dire io faccio partire tre bot ok e ad ognuno ci metto chiaramente il 30% del mio portafoglio quindi ad esempio 0.2 bitcoin o 0.3 diciamo arriviamo a 0.3 benissimo il numero di linee orizzontali che adesso sembra infinito in realtà lo potete scegliere qui in adesso è coperto dalla mia faccia ma c'è livelli di griglia anche qui ripeto ragazzi io lascio sempre di solito quelli che il bot mette in automatico in questo momento sono 110 più livelli di griglia mettete più fitte queste linee diventano potete tra l'altro anche impostare poi ripeto purtroppo penso che ci sia sempre la mia faccia di mezzo dei take profit e degli stop loss cioè in sostanza si va ad aggiungere un prezzo nel caso dello stop loss che una volta che ADA raggiunge il bot in automatico vende tutti gli ADA per bitcoin al contrario il take profit che cosa fa nel momento in cui il bot raggiunge una certa percentuale di guadagno quando la raggiunge vende tutti gli ADA per bitcoin ok questo qui è opzionale vi faccio vedere comunque che è semplicissimo perché una volta scelto tutte le operazioni ok uno può premere su anteprima l'anteprima gli fa vedere un riassunto di quello che fa una volta premuto conferma il bot parte ok tenete conto di questo adesso vi voglio fare vedere la parte più più interessante che è la dashboard ok qui sotto nella parte bot spot ecco tenete presente non so se avete visto quello che è successo quando io ho premuto conferma il bot mi ha chiesto che doveva comprare un po' di ADA a mercato perché doveva comprare un po' di ADA a mercato perché il bot vende il 50% di quello che gli diamo per andare a comprare sostanzialmente l'altro asset quindi nel caso della coppia ADA BTC lui ha venduto metà di quei bitcoin che gli ho detto di inserire per andare a comprare ADA ok questo è molto importante nel momento in cui ho premuto ok ha fatto partire un ordine a mercato ok e qui noi possiamo vedere in diretta diciamo qui c'è il mio bot che ho fatto partire adesso ADA BTC il suo valore questi 11.000 dollari che in realtà sono 11.000 dollari di test con il cambio il cui controvalore diciamo la percentuale dipende anche dal prezzo sia di ADA che di BTC e il profitto del bot che invece è il profitto puro che il bot mi va a fare detto questo poi dovendo parlare concretamente vi voglio fare vedere il pricing perché come vi dicevo prima ok ci può stare d'accordo nel senso che scusate adesso vi volevo fare vedere il pricing che ovviamente non mi ricordo ad ogni modo quello di cui vi volevo parlare ragazzi è del fatto eccolo qui ok è che il pricing non è adatto a tutti nel senso la basic costa 24 euro al mese e qui sto andando a vedere il piano a 6 mesi se io andassi a vedere il piano pagando mese per mese vedete che è un bot sicuramente adatto a utenti un pochino più esperti o comunque a capitali più alti perché abbiamo il piano basic di 29 euro al mese che ha due bot al massimo attivi vi dicevo prima che si possono attivare più bot contemporaneamente con la versione basic sono 29 euro al mese l'advanced che ve ne fa attivare fino a 5 sono 69 la pro che ve ne fa attivare fino a 20 e ovviamente anche adesso qui c'è sempre un po' la mia faccia di mezzo ma chiaramente ci sono anche delle altre features in più costa comunque 149 euro al mese quindi non è affatto adatta a tutti dal mio punto di vista per chi è adatta allora la cosa migliore è innanzitutto un certo capitale di partenza perché purtroppo diciamo che con con 1000 euro sicuramente andare a pagare 29 euro al mese per il bot forse è un pochino eccessivo nel senso che personalmente non credo che andrei a farlo ok al contrario al contrario se avete dei capitali che magari sono maggiore di 10.000 euro e volete spendere una percentuale dei vostri bitcoin o dei vostri usdt usd all'interno anche di un bot allora in quel caso può avere senso tra l'altro come vi dicevo prima ancora meglio se avete i rebate sul vostro exchange perché in quel caso ogni ordine che il bot vi piazza e ve ne piazza tantissimi in quel caso andate a prendere dei rebate e per avere i rebate per esempio faccio il caso di ftx che oltre a una certa soglia di ftx vi da i rebate parlando a livello di performance perché poi giustamente uno dice ok io magari pago la versione advanced e e chiaramente ho 69 euro al mese 69 dollari scusate al mese quanto mi rende dunque chiaramente dipende e ovviamente i rendimenti passati non possono essere storia per i rendimenti futuri però non è affatto male tenete conto che può rendere anche un 20% rende il massimo quando la situazione è laterale rende comunque bene quando c'è una condizione di mercato favorevole quando il mercato è ribassista sicuramente ha delle difficoltà anche il bot però talvolta vi può performare comunque meglio che il mercato quindi se il mercato sta scendendo e scende di un meno 5 magari il bot anziché farvi prendere il meno 5 vi fa fare un meno 1% ok questo questo è un po' il senso quindi è in ottica di diversificazione perché lo so che anche anchor rende il 19% ad esempio però vi dicevo magari vi da un 20% più i vari rebate che avete sugli exchange ad ogni modo adesso non volevo parlarvi per 100.000 ore vi posso ve lo metto anche poi sul link che metterò su youtube vi do vi posso dare il mio referral code che vi da 7 giorni di prova gratuita della versione pro quindi dove avete praticamente tutto e nel caso in cui vogliate provare ok ve lo invio qui nel caso in cui vogliate provare avete 7 giorni dove la la strategia pro è gratuita quindi potete usarla come se foste nella versione pro cioè come se pagaste 149 euro al mese e poi decidere se fa al caso vostro oppure se no d'accordo? detto questo ho visto delle domande super interessanti alle quali volevo andare a rispondere però ok adesso me le sono ribeccate aspettate eh che arrivo dopo ho visto che ci sono delle domande legate al bot ci arrivo perché volevo partire dalle domande che sono state fatte all'inizio il ministro russo ha detto che vuole regolarizzare le cripto hai ragione io se non sbaglio ho letto il tweet dove veniva esplicitamente detto che in sostanza la russia non vuole bannare le criptovalute ma le vuole appunto regolarizzare questo sicuramente è un è una condizione migliore è una condizione migliore buona serale cosa ne pensi dello staking di luna su stader dunque ne penso che è ottimo oltretutto c'è poi la possibilità di mettere la pool luna luna x per andare a prendere anche dei token sd personalmente vi dico anche la verità personalmente non ci sono io su stader con i miei luna per il fatto che in realtà non l'ho ancora fatto però credo che al momento rappresenti una delle opzioni a più alto rendimento per i propri luna se devo essere onesto se la russia invade l'ucraina bitcoin va 10k caspita ragazzi ma a prescindere da bitcoin cioè io mi auspico che non succedano queste cose nel 2022 però ripeto non sono un esperto sicuramente di storia geopolitica quindi non mi voglio sbilanciare su questo dunque ciao Ale mi sembra che tu avevi mandato un link con il quale sapevi se eri eligibile a qualche airdrop lo hai ancora? grazie mille dunque no allora un link dove tu riesci a capire se sei eligibile a un qualunque tipo di airdrop non l'ho ancora trovato però ci sono vari tool che ti possono aiutare come avevo già fatto vedere più volte c'è il canale di twitter cosmos airdrop questo qui cosmos airdrops per quanto riguarda gli airdrop del mondo di cosmos che in generale poi sottointende anche il mondo di luna ed il suo ecosistema quindi osmosis eccetera eccetera però guarda una piattaforma unica che ti dica proprio tutti tutti gli airdrop personalmente non l'ho trovata quindi se voi siete a conoscenza di qualcosa anzi condividetelo c'è terra drops grazie mille per chi lo diceva terra drops è un altro sito che ti aiuta a individuare degli airdrop per quanto riguarda il mondo di terra dunque leggevo una domanda su qualche metodo per prelevare phantom da crypto.com senza passare dalla rete di ethereum per prelevare phantom dunque binance ti permette di prelevare ti permette di prelevare ftm quindi non so se hai la possibilità di andare su ah certamente perché tu ok non ho capito il senso e dovresti convertire prima in stablecoin per esempio in boost e a quel punto mandarle su binance ricomprare phantom e prelevare un pochino una seccatura però potrebbe essere una soluzione carino il post di grayscale è molto interessante il post di grayscale non so se l'avevate letto ma lo vado anche a ripescare io in sostanza allora grayscale è quel fondo di investimento che ormai abbiamo anche imparato a conoscere che in sostanza ha una serie di fondi che permettono agli investitori di andare a disporsi sul mercato delle cripto non sono degli etf attenzione e ha fatto uscire questo questo post che poi avevo anche condiviso nel quale vanno a enunciare tutti i token che sono sotto osservazione che cosa vuol dire vuol dire che sono quei token che stanno studiando che potrebbero come non potrebbero essere aggiunti in futuri prodotti di grayscale e tra questi di interessanti cioè allora innanzitutto li vedete tutti qui scritti nel post però di interessante c'era sicuramente Algorand Atom Convex Phantom poi qui non viene detto ma c'era anche Dot Secret e Spell ok quindi secondo me è interessante non tanto perché dobbiamo utilizzarlo come buy the news ma perché comunque grayscale ha il suo peso ok quindi dovesse decidere di fare un fondo dedicato a qualcuna di queste cripto sicuramente gli dà una rilevanza in più ecco tra l'altro ringrazio Seven Soccer Academy che c'è un bel airdrop per gli staker di osmosis e di Atom che è stargaze punto zone è vero ma in quel caso il canale Cosmos e airdrop ti poteva aiutare perché ne parlava quindi appunto se siete interessati al mondo di Cosmos vi consiglio di seguire quel canale quel canale scusate quel profilo di Twitter ok tra l'altro se non vado errato proprio oggi che è il 25 di gennaio doveva esserci lo snapshot anche per Evmos che è quella chain sempre che è basata su Cosmos SDK di tipo EVM che oltre a questo snapshot farà anche un rect drop quindi a tutti coloro che sono stati vittime di di vari ragapool se non sbaglio c'è anche Iron Finance tra cui ragpull riceverà questo airdrop comunque ci manterremo aggiornati perché dovranno far uscire un po' di news anche loro dunque ah ecco qui ringrazio Albero78 Uobia ha avuto per un mese UST al 25% se li bloccavi a 28 giorni ora c'è solo il 20% se li blocchi al 14 giorni beh dai solo il 20% alla fine è quello che ti rende anchor bloccati a 14 giorni se ci pensi ci sta perché secondo me è più che tollerabile 14 giorni di blocco dunque H non ha lanciato nel momento migliore diciamo hai ragione hai ragione effettivamente hanno lanciato ma più che altro non è che è stato H a decidere non è stato Akala a decidere di lanciare adesso il fatto è che le parachain sono andate live adesso e il listing è avvenuto oggi quindi ci sta certamente chi mi fa notare che Iron Finance non era un ragpull avete ragione però è stato incluso anche Iron Finance all'interno del 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 rect drop di Evmos se non sbaglio dunque avevo notato adesso mi sono perso le domande iniziali non è importante Uobi ha un bot incluso si Uobi ha un bot incluso anche quello di tipo griglia è sempre un grid trading bot all'interno proprio dell'exchange si dunque su FTX si potrebbe fare un sub account da dedicare solo al bot secondo te ci può stare cioè dipende se dal tuo punto di vista ti è utile questa operazione qui non è non è obbligatoria ecco ciao le come posso fare a portare eth fermi su coin list a wonderland o a popsicle finance grazie mille dunque in che senso a portarli su wonderland su popsicle cioè li vuoi mettere in staking lì dipende adesso coin list non so che prelievi che chain permetta di utilizzare quindi non non ti so aiutare in realtà se hai la possibilità di prelevare direttamente su rete avalanche sarebbe la cosa migliore però dubito perché di solito gli exchange non ti permettono di prelevare eth direttamente su su rete avalanche però tentare non nuoce conosci ciao le conosci liquid driver potrebbe avere un ruolo importante nella defy di phantom si conosco liquid driver ve ne avevo anche parlato in realtà un po' di tempo fa e si potrebbe avere un ruolo importante nella defy perché è uno di quei protocolli che cerca di diventare un meta protocollo di governance o almeno a me piace chiamarlo così che sta ad intendere quei protocolli che detengono tanti token di governance di altri protocolli infatti liquid driver detiene tantissimi token di governance di spirit swap che è il dex che è il dex su phantom quindi si anche secondo me è figo alle domani video portafoglio vero già programmato ragazzi be ready allora ecco vorrei provare a bloccare un utente per la prima volta nella mia vita visto che credo ci sia uno scam in atto solo che qui giustamente dovrei essere su twitch immagino per fare questa roba del genere cioè come faccio a bloccarlo ragazzi è bellissimo non ho mai bloccato nessuno ok credo di averlo bloccato spero comunque dovrò mettere dei moderatori ragazzi avete ragione dunque dunque ciao sono il tizio di wonderland che voleva tirarti gli avax dietro perché non riusciva a fare lan stake intendevo dire che di avax ne ho tanti ma la transazione su wonderland una volta partita non viene completata si fotte solo le fee so che non è un mio problema ma non ho trovato soluzione ah no so che non è solo un mio problema ma non ho trovato soluzione su discord non mi aiutano ripetono hold bro come le scimmie dunque sai che non ti saprei spiegare neanch'io cioè tu non riesci a fare unstake dei tuoi memo in sostanza è questo il problema non lo so cioè davvero mi piacerebbe aiutarti ma non riesco a capire neanch'io il problema non lo so come mai su 0xDAO le API sono scese a 0% sui token principali questa è un'ottima domanda vi andiamo anzi ve lo spiego direttamente perché che cosa hanno fatto hanno fatto un token di governance ok che scusate hanno fatto una proposal di governance nella quale hanno deciso di ridurre le emissioni del 52% circa togliendole a tutti quei token che non erano dell'ecosistema di phantom infatti se andate a vedere le reward per quanto riguarda ad esempio DAI USDC MIM cioè praticamente le stablecoin sono tutte a 0 però adesso gli APY sono altissimi per tutti quei token che fanno parte invece dell'ecosistema di phantom quindi Xtarot Liquid Driver Phantom e ovviamente hanno aggiunto anche il loro single stake di 0xDAO quindi è per questo motivo che vedi molte APY a 0 e invece le altre sono rimaste e il motivo è che hanno deciso tramite votazione di governance questa cosa qui dunque Unite Finance è crollato insieme al mercato come sta andando ma in realtà è crollato c'hai ragione adesso lo andiamo a vedere se vuoi Allora l'unica cosa positiva secondo me è che finalmente è arrivato a PEG allora fatemi andare su blockchain Harmony se la trovo ok andiamo a vedere qui ok vedete è 1,1 1,11 quindi ancora in realtà non è del tutto a PEG però ci manca poco c'è da dire che il punto è questo dal mio punto di vista quando il rischio è così alto perché comunque su piattaforme come United il rischio è alto e il mercato invece non è favorevole come in questo periodo sicuramente non sono piattaforme vincenti personalmente io su Share ci sono ancora ma perché tra virgolette è il to the moon che tanto non avverrà però io periodicamente vendo i miei Unite e fuoriesco dalla piattaforma sostanzialmente questo è il senso tranne i miei Ushare che sono rimasti lì nella boardroom se dovessi decidere se entrarci oggi probabilmente non lo farei ma non tanto perché potrebbe salire magari sì non lo so ma perché diciamo che il rischio in questo momento secondo me non è favorevole cioè il mercato non è favorevole a piattaforme di così alto rischio dunque si va benissimo il 20% su UST su Wobby io ci ho messo quanto potevo sul 25 e ora metto anche sul 20 in stessa settimana non riuscivo a capire perché tutti a parlare di Anchor quando su Wobby c'era il 25 era una sorta di promozione che avevano fatto chiaramente dunque 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 ciao Ale ma il pool biluna luna su terra swap è normale che l'ammontare dei biluna che ho diminuisca a volte per qualche motivo grazie allora considera che il pool luna biluna è comunque seppur poco soggetto a impermanent loss e di conseguenza sì può capitare può capitare perché vuol dire che biluna sta aumentando di prezzo e quindi cala di quantità quindi sì tranquillo dunque allora ho visto questa cosa qui ciao Ale dove mettere in staking dot non avendone 120 devo utilizzare solo gli exchange allora la risposta a questa domanda è interessante perché sì per ora sì hai la possibilità solo tramite exchange centralizzato però io spero che con l'arrivo di ad esempio queste parachain come Moonbeam come Akala come Astar nascano delle soluzioni di liquid staking per esempio su Akala dovrebbe nascere questa soluzione di liquid staking che quindi ti permette anche se hai meno di 120 dot di andare a depositare i tuoi dot ricevere in cambio L dot che sta proprio per liquid dot e ottenere in cambio comunque l'IPY dello staking senza la necessità di avere 120 dot quindi la risposta è sì al momento sei obbligato ad avere gli exchange e no in futuro spero che ci saranno soluzioni di liquid staking atte a queste a questo su Kraken c'è il 12% sì esatto su Kraken ma non è l'unico anche se non sbaglio Binance permette lo staking di dot ciao Ale conosci airdrops.io no non lo conosco premiamolo vediamolo ok non non l'ho mai visto in realtà se devo essere sincero per cui non non ti saprei dire se magari qualcuno di voi lo conosce l'ha usato e e sa se effettivamente ha senso se no non so non lo so non so darti un mio parere è vero dunque ciao Ale qual è lo yield nel detenere nel wallet B e TH su terra sto valutando se metterli come collaterale su Anchor più Earn oppure metterli nel vault di Nexus beh tieni conto che in realtà il vault di Nexus fa in automatico quello che potresti fare tu manualmente cioè prendere i tuoi beat metterli su Anchor prendere UST in prestito e mettere questi UST nella sezione Earn quindi è la stessa cosa cioè semplicemente Nexus lo fa per te questo è questo è il senso puoi consigliarmi un modo per mettere in rendita luna senza trasformarli in biluna esiste un protocollo tipo Tarot su terra allora un protocollo tipo Tarot ancora non esiste sul mondo di terra beh puoi metterli in staking banalmente cioè se se non ti interessa diciamo trasformare in biluna metterli in staking è la cosa più semplice più sicura anche perché non c'è un rischio elevato e guadagni le PY dello staking oltre che eventuali airdrop che andassero a chi ha e possiede staking in luna cioè luna in staking a proposito di Astar quale connessione avrà con Atom avevo letto una news sì questa qui forse ve l'avevo ve l'avevo anche condivisa al momento in realtà si sa ben poco perché c'è questo bridge che vuole connettere il mondo di Cosmos con Astar che è questa paracene di Polkadot e io in realtà sono anche felice quindi vedremo ci terremo aggiornati per quanto riguarda ho visto una domanda su Anchor versione 2 l'ho visto che integrerà gli yield di interest bearing token come asset a collaterale e cambierà anche un po' il modo con cui Anchor effettivamente funziona perché fino a questo momento lo staking yield veniva dato ad Anchor e veniva utilizzato proprio per ripagare questo 20% oltre che oltre che lo stesso borrow e più guai no con questo aggiornamento in versione 2 probabilmente potrebbe essere il caso che lo staking yield rimane comunque nelle mani di chi deposita l'asset ma vengono alzati i tassi di interesse insomma è interessante una cosa che una cosa che avevo notato oggi è che avevo visto un post di Doquan dove parlava di un eventuale refill da parte della Terraform Labs dello yield reserve di Anchor quindi potrebbe essere che nei prossimi giorni avvenga magari un ulteriore refill non sarebbe il primo è già avvenuto più volte che garantirebbe un po' di vita in più a questo 20% che Terra può offrire grazie ad Anchor Protocol soprattutto visto il fatto che adesso anche degli exchange permettono l'utilizzo diciamo di Anchor in maniera estremamente semplice perché non devi neanche andare su Terra Station non devi fare niente più con l'arrivo di strategie come la Digimbox di Abracadabra è ovvio che lo yield reserve è messo sotto stress quindi una proposta interessante che è stata fatta da Dan Quar che seguitelo su Twitter se vi interessa nel mondo di Terra perché ne vale la pena è che in sostanza ad esempio i protocolli come Abracadabra che vanno a sfruttare strategie tipo la Digimbox su Anchor Protocol sarebbe opportuno che magari pagassero delle fee perché comunque riempio vanno a svuotare la yield reserve perché fanno leva praticamente su UST e Meme e secondo me era interessante cioè Dan Quar ripeto è una proposta di Dan Quar nessuno l'ha ancora presa in considerazione magari non la prenderà in considerazione nessuno però io la cioè la sostengo mi piace e in sostanza lui diceva queste piattaforme che paghino una fee ad Anchor oppure che paghino una fee agli staker di ANC per esempio anche questa potrebbe essere un'idea su Twitter si chiama Dan Quar cioè ve lo faccio proprio vedere Dan Quar lui io già lo seguo appunto ma vi consiglio di seguirlo dunque dunque ah ok mi è partita la chat perfetto io sto ancora aspettando White Whale su Terra anche io però non ti so non ti so dare novità perché non ho letto di notizie per quanto riguarda White Whale in questo periodo quindi non non so a che punto stiano con i progressi non so se avete visto invece Prism Protocol che ha posticipato il lancio che doveva avvenire se non sbaglio oggi o comunque veramente nei prossimi giorni invece adesso l'hanno rimandato al 2 di febbraio credo proprio oggi comunque doveva essere dunque dunque ciao Ale qualche consiglio per avere un'unica vista su tutti i vari wallet ad esempio Metamask wallet di terra Terra Station eccetera Apeboard mi risulta limitato guarda purtroppo questa qui è un'ottima domanda ti dico la verità però non non credo di aver ancora trovato un diciamo un tool che raggruppi benissimo una dashboard unica quindi o lo fai on-made su per esempio Excel se no non una unica faccio ancora fatica a dirti quale cioè non l'ho ancora trovata personalmente puoi usare Apeboard Debank però ripeto sono tutte piattaforme interessanti ma mai complete mai complete mi metto a svilupparlo io ma guarda se lo fai vuoi pubblicizzarlo per quanto mi riguarda sarebbe epico c'è un dubbio amletico addirittura metto in staking su Lido i miei Luna ottengo B Luna li converto in Ust in UST e li metto a rendita su Anchor ha senso o potrei fare di meglio dunque in che senso converti i tuoi B Luna in UST cioè intendi che li metti su Anchor a prendere un prestito non lo so comunque ripeto per quello che mi riguarda del mondo Luna sì non capisco ah ok cioè sfruttare Anchor come per prendere un prestito ti dico che secondo me in questo momento forse renderebbe di più avere Luna in staking sotto forma di Luna X e pool con Luna però non ti saprei dire non ti saprei dire con esattezza comunque sì cioè il tuo ragionamento in generale ha senso è un buon metodo però credo che in questo momento renda di più avere Luna X poi ti ripeto personalmente non ho Luna X ma solo perché non ho non ho fatto le operazioni diciamo per poter avere Luna X ok confermo gli 0,2 memo grazie anzi ti ringrazio per il feedback perché io non l'ho fatto quindi non ho ricevuto praticamente niente tra l'altro ragazzi direi che facciamo le ultime domande avevo visto che c'era una domanda parecchio interessante se volete vivendo il mio Excel modifico prezzo modico prezzo di un bitcoin dai sei comunque una persona modesta e soprattutto umile dunque 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 leggo questa che ecco potrebbe essere utile di solito quando succede che non si riesce a fare land stake significa che sono depositati in un protocollo che non ha liquidità sottostante quindi land stake richiede uno sproposito di gas fee milionarie a ricoprire il debito del protocollo succede anche con bifi con phantom su scream cioè non so non so se adesso fa il caso della persona che aveva chiesto prima per wrapped memo nel caso ti ringrazio rob3rmi1x perché magari lo ha aiutato non lo so va bene ragazzi dai noi ci vediamo domani belli carichi con il video del portafoglio visto che giustamente me l'avete richiesto ma è giusto è anche una questione di trasparenza e io come sempre vi ringrazio davvero tanto per essere arrivati fino a qui e vi auguro una buona serata davvero grazie a tutti e ci vediamo domani ciao ragazzi